Nella riunione di giunta di ieri il presidente di Union Camere Piemonte, Ferruccio Dardanello, ha dato il benvenuto ai due nuovi componenti Domenico Annibale, in rappresentanza del settore industria, e Sergio Vacchetti, in rappresentanza del settore commercio, designati dal Consiglio Camerali in sostituzione dei dimissionari Amil Caremerlo e Giancarlo Drocco. Il presidente ha inoltre proposto quale nuovo vicepresidente, Mauro Gola, in rappresentanza del settore industria, all'unanimità accolto dai componenti della giunta. Il nuovo vicepresidente, unitamente a Marcello Gatto, vicepresidente vicario in rappresentanza del settore agricoltura, e Domenico Massimino, vicepresidente in rappresentanza del settore artigianato, affiancheranno il presidente e i colleghi della giunta, lavorando in sinergia nell'interesse del mondo impreditoriale del nostro territorio. La giunta camerale risulta ad oggi costituita, oltre a Ferruccio Dardanello, da Domenico Annibale, Patrizia Dalmasso, Antonio Gai, Marcello Gatto, Mauro Gola, Domenico Massimino, Domenico Paschetta, Pierino Sassone, Bruno Tardivo e Sergio Vacchetti.